Primo Cronache, Capitolo I I dieci patriarchi d'Adamo a Noè, i figlioli di Noè e i loro discendenti. Adamo, Seth, Enosh, Kenan, Ma'alalil, Gerad, Enoch, Methuselach, Lamech, Noè, Sem, Cam, Japheth, I figlioli di Japheth, Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshek, Etiras, I figlioli di Gomer, Ashkenaz, Rifat, Togarma, I figlioli di Javan, Elisha, Tarsis, Kitim, Erodanim, I figlioli di Cam, Cush, Mitraim, Put, Ekanam, I figlioli di Cush, Seba, Avila, Septa, Ramma, Septaca, I figlioli di Ramma, Seba e Dedam, Cush generò Nimrod che cominciò ad esser potente sulla terra. Misraim generò Iludim, Ilanamim, Ileabim, Ineftuhim, Ipetrisim, Icalushim, onde uscirono i Filistei, e Icaftorim. Canaan generò Sidon suo primogenito, e Heth, e Igebusei, li Amorei, e Gilgasei, li Ivei, li Arkei, i Sinei, li Arvadei, i Tsemarei, li Amatei. I figlioli di Sam, Elam, Ushur, Arpashad, Lud, Eram, Hus, Ul, Geter, e Meeshek. Arpashad generò Shela, e Shela generò Eber, ed Eber nacquero due figlioli. Il nome di uno fu Peleg, perché ai suoi giorni la terra fu spartita, e il nome del suo fratello fu Joktam. Joktam generò Almodà, Shelef, Azarmavet, Gera, Adoram, Uzal, Dikla, Ebal, Abimahel, Sheba, Ophir, Avila, e Iobat. Tutti questi furono i figlioli di Jotam. Sem, Alpashad, Shela, Eber, Peleg, Reut, Serub, Naur, Tera, Abramo, che è Abramo, e i figlioli di Abramo, Isacco e Ismaele. Questi sono i loro discendenti. Il primo genito di Ismaele fu Neboit, poi Kedar, Adbil, Mipsam, Mishma, Duma, Massa, Adad, Tema, Jetur, Nafish, Kedma. Questi furono i figlioli di Ismaele. I figlioli di Ketura, concubina d'Abramo, essa partorì Zimram, Jorsham, Medam, Madiam, Mishbak, e Shuhak, figlioli di Joksham, Sheba, ed Edam, i figlioli di Madiam, Efa, Efer, Hanok, Abida, ed Eldaad. Tutti questi furono i figlioli di Ketura. Abramo generò Isacco. I figlioli di Isacco. Izaú ed Israele. I figlioli di Ziaú, Eliphaz, Reuhel, Yehush, Ilam, Korat. I figlioli di Eliphaz, Tema, Omar, Tsefi, Gadam, Kenas, Tima, ed Amalek. I figlioli di Reuhel, Natam, Zerak, Shemak, Mitzah. I figlioli di Seir, Lotan, Shobal, Sibéon, Ana, Dishon, Etzer, Disham. I figlioli di Lotham, Hori e Oman, la sorella di Lotham fu Timna. I figlioli di Shobal, Alia, Manatan, Eba, Shefi e Oman. I figlioli di Zibéon, Hain e Ana. I figlioli di Ana, Disham. I figlioli di Disham, Amram, Espan, Yeram, Keram. I figlioli di Etzer, Bilna, Zarnan, Yakam. I figlioli di Dishon, Ut e Aram. Questi sono i re che regnarono nel paese di Edom prima che alcun re regnasse su figlioli di Israele. Bela, figliolo di Beor, e il nome della sua città fu Dinhaba. Bela morì e Jobab, figliolo di Zerak di Bozra, regnò in luogo suo. Jobab morì e Usham, nel paese dei Teminiti, regnò in luogo suo. Usham morì ed Edad, figliolo di Bedad, che sconfisse i Madianiti nei campi di Moab, regnò in luogo suo. E il nome della sua città era Avith. Kadad morì a Samla e Mesraka regnò in luogo suo. Samla morì e Saul di Reobot sul fiume regnò in luogo suo. Saul morì e Baal Anan, figliolo di Akbor, regnò in luogo suo. Baal Anan morì ed Edad regnò in luogo suo. Il nome della sua città fu Pai e il nome della sua moglie Metabel, figliola di Metred, figliola di Mezabab. E ad Adad morì e i capi di Edom furono il capo Timna, il capo Alva, il capo Yeteth, il capo Ohilibama, il capo Ela, il capo Pinon, il capo Kenaz, il capo Teman, il capo Mipzar, il capo Magdiel, il capo Iram. Questi sono i capi di Edom. Primo libro delle cronache, secondo capitolo. Questi sono i figlioli di Israele, Ruben, Simone, Levi, Giuda, Issacar e Zebulon, Dan, Giuseppe, Beniamino, Neftali, Gad e Nasher. I figlioli di Giuda, Er, Onan e Shela. Questi tre gli nacquero dalla figliola di Shua la Cananea. Er, primo genito di Giuda, era perverso agli occhi dell'Eterno e l'Eterno lo fece morire. Tamar, nuora di Giuda, gli partorì Peretz e Zerach, totale dei figlioli di Giuda, cinque. I figlioli di Peretz, Etstrom, Hamul. Figlioli di Zerach, Zimri, Etam, Erman, Calcol e Dara, in tutto cinque. I figlioli di Carmi, Akan, che conturbò Israele quando commise un'infedeltà riguardo all'interdetto. Figlioli di Etan, Azaria. Figlioli che nacquero a Etstrom. Jaram, Mehel, Ram e Kelubai. Ram generò Amnidabab. Amnidabab generò Hanshor, principe dei figlioli di Giuda. E Nashon generò Salma, e Salma generò Boaz. Boaz generò Obed, Obed generò Isai, Isai generò Eliab, suo primo genito, Elinadab il secondo, Shimea il terzo, Natanahel il quarto, Ridai il quinto, Ozzem il sesto, Davide il settimo. Le loro sorelle erano Zeruia ed Abigail, figliolo di Zeruia, Abishai, Joab e Asahel, tre. Abigail partorì Amasa, il cui padre fu Jeter, l'Ismaelita. Caleb, figliolo di Etstrom, ebbe dei figlioli da Azuba, sua moglie, e da Geriot. Questi sono i figlioli che ebbe da Azuba, Gesher, Shobab e Ardum. Azuba morì e Caleb sposò Efrat, che gli partorì Hur. Ur generò Uri, e Uri generò Bezlil. Poi Etzrom prese la figliola di Makir, padre di Galahad, egli aveva sessant'anni quando la sposò, ed essa gli partorì Segub. Segub generò Jair ed ebbe ventitré città nel paese di Galahad. I Geshuriti e i Siri presero loro le borgate di Jair, Kenat e i villaggi che ne dipendevano, sessanta città. Tutti i cotesti erano figlioli di Makir, padre di Galahad. Dopo la morte di Etzrom avvenuta a Caleb e Frata, Abihat, moglie di Etzrom, gli partorì Ashur, padre di Tekoa. I figlioli di Geramiel, primogenito di Etzrom, furono. Ram, il primogenito, Buna, Oren e Ozzem, nati da Ahija. Geramiel ebbe un'altra moglie di nome Atara, che fu madre di Oman. I figlioli di Ram, primogenito di Geramiel, furono Maaz, Jamin e Eker. I figlioli di Oman furono Shammai e Giada. I figlioli di Shammai, Nadab e Abishur. La moglie di Abishur si chiamava Abihayo, che li partorì Haban e Molid. I figlioli di Nadab, Selet ed Appaim, Selet morì senza figlioli. I figlioli di Shemai, 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 Jeter e Jonathan. Janet morì senza figlioli. I figlioli di Jonathan, Pelet e Zaza. Questi sono i figlioli di Geramiel. Shesha non ebbe figlioli, ma sì, delle figlie. Shesha aveva uno schiavo egiziano per nome Jara, e Shesha diede la sua figliola per moglie Jara, suo schiavo, ed essa gli partorì Atai. Atai generò Natan, Natan generò Zabab, Zabal generò Efial, Efial generò Obed. Obed generò Jehu, Jehu generò Aziria, Azaria generò Eletz, Eletz generò Elasa, ed Elasa generò Sismai, Sismai generò Shalum, Shalum generò Gekamia, e Gekamia generò Elishama. I figlioli di Calè, fratello di Geramiel, Mesha, suo primogenito, che fu padre di Ziv, e i figlioli di Maresha, che fu padre di Ebron. I figlioli di Ebron, Cora, Tapu, Rekem, e Shema. Shema generò Ramam, padre di Gjorkeem. Rakeem generò Shalumai, il figliolo di Shalumai fu Maom, e Maom fu il padre di Bet, Sur. Efa, concubina di Calè, partori Oram, Mozza, Gares, Aram generò Gazèz, i figlioli di Jai'dai, Regen, Jotan, Geshman, Pelet, Efa, e Shaf. Ma Aka, concubina di Calè, partori Shebe, e Tirana. Partori anche Sha'af, padre di Madmanna, Sheba, padre di Macbena, e padre di Gibea. La figliola di Calè era Aqsa. Questi furono i figlioli di Calèb. Ben-Hul, primogenito di Efratah, Shobal, padre di Kiriagerim, Salma, padre di Bethlehem, Jeref, padre di Ben-Gader, Shobal, padre di Kiriagerim, ebbe per discendenti Arohe e la metà di Menuhot. Le famiglie di Kiriagerim furono, gli Irrei, i Petuei, gli Shemutei, i Misraei, dalle quali famiglie derivarono gli Zorattiti e gli Estaoliti, i figlioli di Salma, Bethlehem e Netofacci. Atrobed Joab, la metà dei Manatei, gli Zoriti. Le famiglie di Scribi che abitavano a Jabetz, i Tiritei e gli Shematei, i Sukahetei, questi sono i Kennei discesi di Amat, padre della casa di Reqab. Primo cronache, capitolo terzo Questi furono i figlioli di Davide che gli nacquero a Hebron. Il primo genito fu Amnon di Ahinoam la Zraelita, il secondo fu Daniel da Abigail la Carmelita, il terzo fu Absalom figliolo di Mahacca, figliola di Talmai re di Geshur, il quarto fu Adonisia figliolo di Agit, il quinto fu Shefatia di Abitao, il sesto fu Jitream di Egla sua moglie. Questi sei figlioli gli nacquero a Ebron. Quivi regnò sette anni e sei mesi, e in Gerusalemme regnò trentatré anni. E questi furono i figlioli che gli nacquero a Gerusalemme, Shimea, Shobab, Natan, Salomone. Quattro figlioli, natali da Bet-Shua, figliolo di Amiel, poi Jibar, Elishama, Elifelet, Noga, Nefeg, Jafia, Elishama, Eliada ed Elifelet, cioè nove figlioli. Tutti questi furono i figlioli di Davide, senza contare i figlioli delle sue concubine, e Tamar era loro sorella. I figlioli di Salomone, Roboamo, che ebbe per figliolo Abija, che ebbe per figliolo Asa, che ebbe per figliolo Giosafat, che ebbe per figliolo Joram, che ebbe per figliolo Acazia, che ebbe per figliolo Joas, che ebbe per figliolo Amazia, che ebbe per figliolo Azaria, che ebbe per figliolo Jotam, che ebbe per figliolo Acaaz, che ebbe per figliolo Ezechia, che ebbe per figliolo Menasse, che ebbe per figliuolo Amon, che ebbe per figliuolo Giosia. I figliuoli di Giosia, Gioanam il primogenito, Gioiachim il secondo, Sedachia il terzo, Shalom il quarto. Figliuoli di Gioiachim, Giaconia che ebbe per figliuolo Sedachia. Figliuolo di Giaconia il prigioniero. Il suo figliuolo, Shealtiel e Melchiriam, Pedaia, Shenatsar, Giacamia, Oshama e Nedabia. I figliuoli di Pedaia, Zerubabel e Shimei. I figliuoli di Zerubabel, Meshula e Anania, e Shalomit loro sorella. Poi, Ashuba, Ohel, Berechia, Azadia, Geshub e Zed, Cinque in tutto. I figliuoli di Anania, Pelatia ed Isaia, I figliuoli di Refaia, I figliuoli di Arnam, I figliuoli di Abdiah, I figliuoli di Shecania, I figliuoli di Shemahia, I figliuoli di Shemahia, I figliuoli di Shemahia, Inclus marriages, I figliuoli di Olin, I figliuoli di Heraphia, I figliuoli di Jumahia, I figliuoli di Anani, I figliuoli di Jetria, I figli elimini di Anani, I figliuoli di Ahaia, I figliuoli di Giuda, I figliuoli di Anani, i figliuoli di Anani, e Lahad. Queste sono le figliole degli Zoratei. Questi furono i discendenti del padre di Etam, Zeril, Zahma e Zbash. La loro sorella si chiamava Atzeleponi. Penuel fu padre di Gedor e Ezer padre di Usha. Questi sono i figlioli di Ur, primogenito di Efrata, padre di Bethlehem. Ashur padre di Tekoa ebbe due mogli, Elea e Nahara. Nahara gli partorì Asum, Efer, Temeni e Ashtari. Questi sono i figlioli di Nahara, i figlioli di Elea, Zeret, Zohar e Ednam. Cotz generò Anum, Etzobeba e le famiglie di Ahel, figliolo di Arum. Giabetz fu più onorato dei suoi fratelli. Sua madre gli aveva messo nome Giabetz perché diceva, l'ho partorito con dolore. Giabetz invocò il Dio di Israele dicendo, O se tu mi benedicessi e allargassi i miei confini, se la tua mano fosse meco e se tu mi preservassi dal male in guisa che io non avessi da soffrire. E Dio gli concedete tutto quello che aveva chiesto. Kelub, fratello di Shua, generò Mehir che fu padre di Eshton. Eshton generò Bet-Rafa, Paseat e Tehinna, padre di Irnaash. Questa è la gente di Zeca. I figlioli di Kenaz, Otniel e Seraia, i figlioli di Otniel, Atahaf. I meno Otai generò Ofra. Serai generò Joab, padre degli abitanti della valle degli artigiani perché erano artigiani. Figlioli di Caleb, figlioli di Gephunne, Uru, Ela, Enam, figlioli d'Ela e Kenaz, figlioli di Jealel, Zif, Zifa, Tiria e Azareel, figlioli di Esdra, Jeter, Mered, Efer, Jalom. La moglie di Mered partorì Miriam, Shammai e Isbad, padre di Eschatemoa. L'altra sua moglie, la Giudea, partorì Gered, padre di Gedor, Eber, padre di Soco e Jecutiel, padre di Zanoa. Questi nominati prima erano figlioli di Bitia, figliola di Faraone, che Mered aveva presa per moglie. I figlioli della moglie di Odija, sorella di Naham, il padre di Kehila, il Garmeo e Ettemoa, il Macateo. I figlioli di Shimon, Amom, Grina, Benanam, Tilom. I figlioli di Ishi, Zoset e Benzoet. I figlioli di Shela, figliolo di Giuda, Er, padre di Leca, Lada, padre di Marescia, e le famiglie della casa dove si lavora il bisso di Bet, Ashebea e Jochin. E la gente di Chesobea e Joas e Zaraf, che signoreggiarono su Moab, Geshubi Lehem. Ma queste sono cose d'antica data. Erano devasai e stavano a Netem e a Gederat. Stavano quivi presso al re per lavorare al suo servizio. Dicendenti di Simeone Figlioli di Simeone Menuel, Jamin, Jarib, Zerat, Saul, che ebbe per figliolo Shalom, che ebbe per figliolo Mipsam, che ebbe per figliolo Mishma, figlioli di Mishma. E Muel, che ebbe per figliolo Zacur, che ebbe per figliolo Shimei. Shimei ebbe sedici figlioli e sei figliole, ma i suoi fratelli non ebbero molti figlioli e le loro famiglie non si moltiplicarono quanto quelle dei figlioli di Giuda. Si stabilirono a Bershiba, a Molada, a Etzar Shuhal, a Bila, e a Etzem, a Tolad, a Betuel, a Horma, a Ziklag, a Bet Markabot, e a Mazar Susim, a Bet Giri, e a Sharaim. Queste furono le loro città fino al regno di Davide. Avevano pure i villaggi di Etam, Ain, Rimon, Token e Asham, cinque terre, e tutti i villaggi che erano nei dintorni di quelle terre fino a Baal. Queste furono le loro dimore, ed essi avevano le loro genealogie. Mashebab, Jemlek, Josha, figliolo di Amazia, Johel, Jehu, figliolo di Josibia, figliolo di Sheraia, figliolo di Azaiel, Elio, Enai, Giacocoba, Jeshuaia, Azaia, Abdiel, Geshimiel. Benaia, Zisa, figliolo di Scefi, figliolo di Alon, figliolo di Gedaia, figliolo di Shimri, figliolo di Shemaia. Questi uomini, enumerati per nome, erano principi delle loro famiglie, e le loro case patriarcali si accrebbero grandemente. Andarono dal lato di Ghedor fino ad oriente della valle, in cerca di pasture per i loro bestiami. Trovarono pasture grasse e buone, e un paese vasto, quieto e tranquillo, poiché quelli che lo abitavano prima erano i discendenti di Cam. Questi uomini, ricordati più sopra per nome, giunsero al tempo di Ezechiar e di Giuda, fecero man bassa sulle loro tende, sui maoniti che si trovavano quivi, e li votarono allo sterminio, ne sono risorti fino al di d'oggi, poi si stabilirono colà in luogo di quelli, perché vera pastura per i bestiami. E una parte di questi figlioli di Simeone, cinquecento uomini, andarono verso il monte Seir, avendo alla loro testa Pelatia, Nearia, Refaia e Usier, figlioli di Ishi, distrussero gli avanzi degli ammalekiti che avevano potuto salvarsi, e si stavilarono quivi, dove sono rimasti fino al di d'oggi. Primo Cronache, capitolo quinto I figlioli di Rubem, primogenito di Israele Poiché egli era il primogenito, ma siccome profanò il talamo di suo padre, la sua primogenitura fu data ai figlioli di Giuseppe, figliolo di Israele. Non di meno, Giuseppe non fu iscritto nelle genealogie come primogenito. Giuda ebbe, è vero, la prevalenza fra i suoi fratelli, e da lui è disceso il principe, ma il diritto di promogenitura appartiene a Giuseppe. I figlioli di Rubem, primogenito di Israele Anok, Pallu, Estrom e Carmi I figlioli di Joer Shemaia, che ebbe per figliolo Gog Che ebbe per figliolo Shimei Che ebbe per figliolo Mika Che ebbe per figliolo Reaia Che ebbe per figliolo Baal Che ebbe per figliolo Be'era Che tilga palnesier re di Assiria menò in cattività Esso era principe dei Rubeniti Fratelli di Be'era secondo le loro famiglie Come sono scritti nelle genealogie secondo le loro generazioni Il primo, Jeier Poi, Zaccaria Bella figliolo di Asas Figliolo di Shema Figliolo di Joer Bella dimorava a Roer E si estendeva fino a Nebo E a Bal-Meon A oriente occupava il paese Dal fiume Eufrate Fino all'entrata del deserto Perché aveva gran quantità di bestiame Nel paese di Galahad Al tempo di Saul I discendenti di Bella Mossero guerra agli Agareni Che cadero nelle loro mani E quelli si stabilirono nelle loro tende Su tutto il lato orientale di Galahad I figlioli di Gad Dimoravano di rimpetto a loro nel paese di Basham Fino a Salca Joel fu il primo Shafam il secondo Poi Janai e Shefat in Basham I loro fratelli Secondo le loro case patriarcali furono Mikael Meshulam Sheba Jorai Jacan Zia Ed Eber Sette in tutto Essi erano i figlioli di Abihail Figliolo di Huri Figliolo di Joram Figliolo di Galahad Figliolo di Mikael Figliolo di Jeshishai Figliolo di Yaddo Figliolo di Bus Hai Figliolo di Abediel Figliolo di Guni Era il capo della loro casa patriarcale Abitavano nel paese di Galahad Di Basham E nelle città che ne dipendevano E in tutti i pascoli di Sharon Fino ai loro estremi limiti Tutti furono iscritti nelle genealogie Al tempo di Giotan re di Giuda E al tempo di Geroboamo re di Israele E figlioli di Ruben I Gaditi E la metà tribù di Manasse Che avevano degli uomini prodi Che portavano scudo e spada Tiravano d'arco Ed erano addestrati alla guerra E il numero di 44.760 Atti a combatterlo Mossero guerra Alli Agareni A Getur A Mefish A Nadab E furono soccorsi Combattendo contro di loro E gli Agareni E tutti quelli che erano con essi Furono dati loro nelle mani Perché durante il combattimento Essi gridarono a Dio Che li esaudì Perché si erano confidati in Lui Essi presero il bestiame dei vinti 50.000 cammelli 200.000 pecore 2.000 asini 100.000 persone Molti ne caddero morti Perché nella guerra Procedeva da Dio E si stabilirono Nel luogo di quelli Fino alla cattività I figlioli Della mezza tribù di Manasse Abitarono anch'essi In quel paese Da Bisham Fino a Bal-Ermon E a Senir E al monte Ermo Erano numerosi E questi sono i capi Delle loro case patriarcali Efer Issi Eliel Azriel Geremia Odavia Jabdiel Uomini forti e valorosi Di gran rinomanza Capi delle loro case patriarcali Ma furono infedeli E il Dio E il Dio Dei loro padri Si prostituirono Andando dietro Agli dei dei popoli Del paese Che Dio Aveva distrutti Dinanzi a loro E il Dio Dio di Israele Citò lo spirito Di Pur Re di Assiria E lo spirito Di Tilgal Parnesier Re di Assiria E Tilgal Parnesier Menò in cattività I rubeniti I gaditi E metà Tribù di Menasse E li trasportò A Halal E a Abor E a Ara E presso Al fiume di Gosa Dove sono rimasti Fino Al di D'oggi Primo Cronache Capitolo Sesto Figliuoli di Levi Gershom Kehat E Merari Figliuoli di Kehat Amram Isehar Ebron E Uziel E figliuoli di Amram Aaron Mosè E Maria E figliuoli di Aaron Nede Nedab Abihu Elezar E Itamar Elezar Genero Fineas Fineas Genero Abishua Abishua Genero Buki Buki Genero Uzi Uzi Genero Zerahia Zerahia Genero Meriot Meriot Genero Amaria Amaria Genero Aitub Aitub Genero Sadok Sadok Genero Aimaz Aimaz Generò Azzaria Azzaria Generò Gionanan E Gionanan Generò Azzaria Che esercitò Il sacerdotio Nella casa Di Salomone Che egli Edificò A Gerusalemme Azzaria Azzaria Generò Amaria Azzaria Generò Aitub Aitub Generò Sadok Satov Generò Shalom Shalom Generò Ilkija Ilkija Generò Azzaria Azzaria Generò Shiraia Shiraia Generò Getzodak E Getzodak Se ne andò In esilio Quando l'Eterno Fece menare In cattività Giuda E Gerusalemme Da Nebucatnesa Figlioli Di Levi Gershom Kehat E Merari Questi sono i nomi Dei figlioli Di Gershom Libni E Shimei I figlioli Di Kehat Amram Getsuar Hebron E Usier I figlioli Di Merari Mali E Mushi Queste sono Le famiglie Di Levi Secondo Le loro case Patriarcali Gerushom Ebbe Per figliolo Libni Che Ebbe Per figliolo Jahath Che Ebbe Per figliolo Zimma Che Ebbe Per figliolo Core Che Ebbe Per figliolo Asir Per figliolo Eliab Che Ebbe Per figliolo Estabili Per la direzione Per la direzione Del canto Nella casa Dell'Eterno Dopo che L'arca Ebbe Un luogo Di riposo Essi esercitarono Il loro ufficio Di cantori Davanti al tabernacolo Davanti alla tenda Di convegno Finché Salomone Ebbe Edificata La casa Dell'Eterno A Gerusalemme E facevano Il loro servizio Secondo La regola Loro prescritta Questi Sono quelli Che facevano Il loro servizio E questi I loro figlioli De figlioli Di Cheatiti Eman Il cantore Figliolo di Joël Figliolo di Samuele Figliolo di Elcana Figliolo di Geroham Figliolo di Eliel Figliolo di Toha Figliolo di Tzuf Figliolo di Elcana Figliolo di Mahat Figliolo di Amshai Figliolo di Elcana Figliolo di Joël Figliolo di Azaria Figliolo di Sofonia Figliolo di Atan Figliolo di Assir Figliolo di Ebbe Bias, figliolo di Core, figliolo di Tsetzar, figliolo di Kehat, figliolo di Levi, figliolo di Israele. Poi vera il suo fratello Asaf, che gli stava alla destra. Asaf, figliolo di Berechia, figliolo di Shimea, figliolo di Micau, figliolo di Bathsheia, figliolo di Marchigia, figliolo di Etni, figliolo di Zera, figliolo di Adahia, figliolo di Etan, figliolo di Zimma, figliolo di Shimei, figliolo di Jahat, figliolo di Gersho, figliolo di Levi. I figlioli di Merari, i loro fratelli, stavano a sinistra, ed erano Etan, figliolo di Kishi, figliolo di Abdi, figliolo di Maluk, figliolo di Ashabia, figliolo di Amazia, figliolo di Ilkia, figliolo di Amzi, figliolo di Banni, figliolo di Shemer, figliolo di Mahil, figliolo di Musci, figliolo di Merari, figliolo di Levi. I loro fratelli, i Leviti, erano incaricati di tutto il servizio del tabernacolo della casa di Dio. Maharon e i suoi figlioli offrivano i sacrifici sull'altare degli Olocausti e l'incenso sull'altare dei profumi, compiendo tutto il servizio nel luogo santissimo e facendo l'espiazione per Israele secondo tutto quello che Mosè, servo di Dio, aveva ordinato. Questi sono i figlioli di Aronne. Eleazar, che ebbe per figliolo Fineas, che ebbe per figliolo Abishua, che ebbe per figliolo Buki, che ebbe per figliolo Uzzi, che ebbe per figliolo Zeraia, che ebbe per figliolo Meraioth, che ebbe per figliolo Amaria, che ebbe per figliolo Aitub, che ebbe per figliolo Tzadok, che ebbe per figliolo Aimaz, questi sono i luoghi delle loro dimore, secondo le loro circoscrizioni nei territori loro assegnati. A figliole di Aron e della famiglia dei Kenaititi, che furono i primi tirati a sorte, furono dati Evro nel paese di Giuda e il contato dell'intorno, ma il territorio della città e i suoi villaggi furono dati a Caleb, figliolo di Giù, Fenne, e ai figlioli di Aron fu data Evro un città di rifugio, Libna col suo contato, Jatir Ehtemoah col suo contato, Ilen col suo contato, Debir col suo contato, Asshon col suo contato, Beshemesh col suo contato, e della tribù di Beniamino Geba è il suo contato, Alamec col suo contato, Anatot col suo contato. Le loro città erano in tutto il numero di tredici, pari al numero delle loro famiglie. Agli altri figlioli di Ketat toccarono a sorte dieci città delle famiglie delle tribù di Efraim, della tribù di Dan, e della mezza tribù di Menasse. Ai figlioli di Gershom, secondo le loro famiglie, toccarono tredici città della tribù di Issacar, della tribù di Asher, della tribù di Neftali, e della tribù di Menasse in Basham. A figlioli di Merari, secondo le loro famiglie, toccarono a sorte dodici città della tribù di Ruben, della tribù di Gad, e della tribù di Zabulon. I figlioli di Israele dettero ai Liviti quelle città con i loro contadi, dettero a sorte della tribù dei figlioli di Giuda, della tribù dei figlioli di Simeone, e della tribù dei figlioli di Beniamino, le dette città che furono designate per nome. Quanto alle altre famiglie dei figlioli di Ketat, le città del territorio assegnato loro appartenevano alla tribù di Efraim. Dettero loro sicche in città di rifugio col suo contado nella contrada montuosa di Efraim, Gesar col suo contado, Jochemeam col suo contado, Bet-Horon col suo contado, Ajalon col suo contado, Gad-Rimon col suo contado, della mezza tribù di Menasse, Aner col suo contado, Bileam col suo contado. Queste furono le città date alle famiglie e degli altri figlioli di Ketat. Ai figlioli di Gershom toccarno della famiglia della mezza tribù di Menasse, Golan, in Basham col suo contado, Astaroth col suo contado, della tribù di Zakar, Kedesh col suo contado, Debrat col suo contado, Ramoth col suo contado, e Anem col suo contado, della tribù di Asher, Mashal col suo contado, Abdon col suo contado, Ukok col suo contado, Rehob col suo contado, della tribù di Neftali, Kedesh in Galilea col suo contado, Ammon col suo contado, Kiriat Aim col suo contado, al rimanente dei Leviti ai figlioli di Merari, toccarono della tribù di Zavulom, Rimon col suo contado, Tabor col suo contado, e di là dal Giordano di Gerico all'oriente del Giordano, della tribù di Ruben, Bezzer col suo deserto, nel suo contado, Jatzà col suo contado, Redemoth col suo contado, e Mefaat col suo contado, e della tribù di Gad, Ramoth in Galahad col suo contado, Mahanahim col suo contado, Eshbon col suo contado, Jeaheser col suo contado. Primo libro delle cronache, capitolo settimo. Figlioli di Issachar, Tola, Pua, Jashub e Shimron, quattro in tutto, figlioli di Tola, Uzzi, Refahia, Geriel, Jahamai, Shbassam e Samuele, capi delle case patriarcali di Scese e da Tola, ed erano uomini forti e valorosi nelle loro generazioni, e il loro numero al tempo di Davide era di ventidue mila seicento. Figlioli di Uzzi, Zarahia, figlioli di Zarahia, Micael, Abdiah, Joheel, Egissia, cinque in tutto, e tutti capi. Aveano con loro, secondo le loro genealogie, secondo le loro case patriarcali, trentaseimila uomini in schiere armate per la guerra, perché avevano molte mogli e molti figlioli, e loro fratelli, contando tutte le famiglie di Saccar, uomini forti e valorosi, formavano un totale di ottantasettemila iscritti nelle genealogie. Discendenti di Beniamino, figlioli di Beniamino, Bela, Becker, G. Diahel, tre in tutto. Figlioli di Bela, Ezbon, Uzi, Uziel, Gerimot ed Iri, cinque capi di case patriarcali, uomini forti e valorosi, scritti nelle genealogie, in numero di 22.034. Figlioli di Becker, Zemira, Joash, Eliezer, Elioenai, Omri, Geromot, Abijah, Anatot e Alemet. Tutti questi erano figlioli di Becker e iscritti nelle genealogie, secondo le loro generazioni, come capi di case patriarcali, uomini forti e valorosi, in numero di 20.200. Figlioli di G. di Iael, Bilan, figlioli di Bilan, Gieshush, Beniamino, Ehud, Kenahanna, Zetna, Tarsis ed Aishahar. Tutti questi erano figlioli di G. capi di Eael, capi di case patriarcali, uomini forti e valorosi, in numero di 17.200, pronti a partire per la guerra. Shupin e Uppin, figlioli di Ir, usci in figliolo d'un altro. I figlioli di Neftali, Jatzier, Guni, Jetzer, Shalom, figlioli di Bila, figlioli di Menasse, Asriel, che gli fu partorito dalla moglie, la sua concubina Siri partorì Makir, padre di Galahad, Makir prese per moglie una donna di Uppin, di Shupin, e la sorella di lui, aveva nome Maacca. Il nome del suo secondo figliolo era Tselofehad, e Tselofehad ebbe delle figliole. Maacca, moglie di Makir, partorì un figliolo, al quale pose nome Peresh. Questi ebbe un fratello di nome Sheresh, i cui figlioli furono Ulam e Rechem. I figlioli di Ulam, Bedam, questi furono i figlioli di Galahad, figliolo di Makir, figliolo di Menasse. La sua sorella, Amoleket, partorì, Ishod, Abiezer, e Mahala. I figlioli di Shemida furono, Ahiam, Shechem, Lichi, e Aniam, discendenti di Ephraim. I figlioli di Ephraim, Shetela, che ebbe per figliolo Bered, che ebbe per figliolo Tahat, che ebbe per figliolo Eleada, che ebbe per figliolo Tahat, che ebbe per figliolo Zabad, che ebbe per figliolo Shetula. Edzer e Elead, i quali furono uccisi da quei di Gath, nativi del paese, perché erano scesi a prendere il loro bestiame. Ephraim, loro padre, li pianse per molto tempo, e i suoi fratelli vennero a consolarlo. Poi entrò da sua moglie, la quale concepì e portò lì un figliolo, e lo chiamò Beria, perché questo era avvenuto mentre aveva l'afflizione in casa. Ephraim ebbe per figliolo She'era, che edificò Bet-Orom, la inferiore e la superiore, e Uzen She'era. Ebbe ancora per figlioli Refa e Resef, il qual Refa ebbe per figliolo Tela, che ebbe per figliolo Taham, che ebbe per figliolo Ladan, che ebbe per figliolo Ammihud, che ebbe per figliolo Elishama, che ebbe per figliolo Nun, che ebbe per figliolo Giosuè. Le loro possessioni e abitazioni furono Beto, e le città che ne dipendevano, dalla parte orientale Naharam, da occidente Geser, con le città che ne dipendevano, Sikhen con le città che ne dipendevano, fino a Gaza con le città che ne dipendevano. I figlioli di Menasse possedevano Beshem, e le città che ne dipendevano, Tanat e le città che ne dipendevano, Meghito e le città che ne dipendevano, Dor e le città che ne dipendevano. In queste città abitarono i figlioli di Giuseppe, figliolo di Israele. Discendenti di Asher Figlioli di Asher I figlioli di Beria Eber e Markier Markier fu padre di Birzavit Eber generò Jaflet, Shomer, Otam e Shua, loro sorella. Figlioli di Jaflet Pasac, Bimhad e Ashvat Questi sono i figlioli di Jaflet Figlioli di Shemer Hai, Rohega, Hubba e Aram I figlioli di Elan, suo fratello Zofa, Shmna, Shelesh e Amal I figlioli di Zofan Sua, Arnefer, Shual, Beri, Shmra Bezer, Hod, Shmana, Shilsa, Shram e Beera I figlioli di Jeter Jefune, Pispa e Ara I figlioli di Ula Ara, Haniel e Rizia Tutti questi furono figlioli di Asher Capi di case patriarcali Uomini scelti, forti e valorosi Capi tra i principi scritti per il servizio di guerra Il numero di 26.000 uomini Primo libro delle Cronache Capitolo ottavo Beniamino generò Bela, suo primogenito Ashbel, il secondo E Harak, il terzo Noa, il quarto E Rafa, il quinto I figlioli di Bela furono Adar, Gera, Abihud, Abishua, Naamam Ahoa, Gera, Shufufa, Uram Questi sono i figlioli di Heud che erano capi delle famiglie che abitavano a Geba e che furono trasportati schiavi a Manahat Egli generò Naham, Ahija, Gera, che li menò via schiavi e generò Uzza ed Ahihud Sehara im ebbe dei figlioli nella terra di Moab dopo che ebbe ripudiate le sue moglie Ushim e Ba'arra Da Adesh sua moglie ebbe Jabab, Zibia, Mesha, Malcam, Jetz, Zocchia, Mirma Questi furono i suoi figlioli capi di famiglie patriarcali Da Ushim ebbe Abitub e El-Pa'al Figlioli di El-Pa'al, Eber, Misham, Shemed che edificò Ono, Lod e le città che ne dipendevano Beria e Shema erano i capi delle famiglie che abitavano a Ajalom e misero in fuga gli abitanti di Gat Ahio, Sheskak, Geremoth, Zebadia, Pnerad, Eder, Mikael, Gispa, Joa erano figlioli di Beria Zebadia, Meshulam, Itzki, Eber, Jesmerai, Itzliya, Jabab erano i figlioli di El-Pa'al Jacin, Zikri, Zabdi, Elineai, Zilettai, Eliel, Adaiya, Beraiya, Shimrat erano i figlioli di Shimei Jaspan, Eber, Eliel, Abdon, Zikri, Anam, Anania, Elan, Atonigia, Gedeia e Peduel erano i figlioli di Shashak Shamsherai, Sheairia, Atalia, Jaaresia, Elija, Zikri erano i figlioli di Geroham questi erano capi di famiglie patriarcali, capi secondo le loro generazioni e abitavano a Gerusalemme il padre di Gabaon abitava a Gabaon e sua moglie si chiamava Maacca il suo figliolo primogenito fu Abdom, poi ebbe Zur, Kish, Bal, Nadab, Gedor, Ahio, Zeker Miklot generò Shimea, anche questi abitarono di rimpetto ai loro fratelli a Gerusalemme coi loro fratelli, Ner generò Kis, Kis generò Saul, Saul generò Jonathan, Milkishua, Abdinedab, Esbal figlioli di Jonathan, Beribar generò Mika, i figlioli di Mika, Pitom, Melek, Taarea, Ahaz, Ahaz generò Geohadda, Geohadda generò Alemet, Azmavet e Zimri, Zimri generò Mozza, Mozza generò Binea che ebbe per figliolo Rafa, che ebbe per figliolo Eleasa, che ebbe per figliolo Azzer, Azzer ebbe sei figlioli dei quali questi sono i nomi, Azricam, Bokru, Ishmael, Shearia, Obadia, Anam, tutti questi erano figlioli di Azzer, figlioli di Eshek suo fratello, Ulam il suo primo genito, Jehush il secondo, Elif e Leth il terzo, i figlioli di Ulam furono uomini forti e valorosi tiratori d'arco, ebbero molti figlioli e nipoti, centocinquanta, tutti questi furono discendenti di Beniamino. Primo libro delle cronache, capitolo nono Tutti gli israeliti furono registrati nelle geneologie e si trovano iscritti nel libro dei re di Israeli. Giuda fu menato in cattività a Babilonia a motivo delle sue infedeltà. Or, i primi abitanti che si stabilirono nei possessi delle loro città erano israeliti, sacerdoti, leviti e netinei. A Gerusalemme si stabilirono dei figlioli di Giuda, dei figlioli di Beniamino, dei figlioli di Efraim e di Menasse, dei figlioli di Perez, figliolo di Giuda, Utai, figliolo di Amihud, figliolo di Omri, figliolo di Imri, figliolo di Bani, dei Sciloniti, Asaia, il primo genito e i suoi figlioli, dei figlioli di Zera, Jehuer e i suoi fratelli, 690 in tutto. Dei figlioli di Beniamino, Salu, figliolo di Meschulam, figliolo di Odavia, figliolo di Assena, Shbenaia, figliolo di Joram, Ela, figliolo di Uzi, figliolo di Micri, Meschlum, figliolo di Scefatia, figliolo di Reuvel, figliolo di Shwipnea. I loro fratelli, secondo le loro generazioni, 956 in tutto. Tutti questi erano capi delle rispettive case patriarcali. Dei sacerdoti, Gedaia, Joiarib, Jaqim, Azaria, figliolo di Ilchia, figliolo di Meschulam, figliolo di Zadok, figliolo di Merayot, figliolo di Aitub, proposto alla casa di Dio. Adahia, figliolo di Geroham, figliolo di Paschur, figliolo di Malchisah, Maesai, figliolo di Adiel, figliolo di Jazzerah, figliolo di Meschalun, figliolo di Meschilemit, figliolo di Imer. E i loro fratelli, capi delle rispettive case patriarcali, 1660 uomini valorosi occupati a compiere il servizio della casa di Dio. Dei Leviti, Shemaia, figliolo di Ashhub, figliolo di Azrihan, figliolo di Ashkabia, dei figlioli di Merari. Bacabaccar, Aresh, Galar, Mattania, figliolo di Micah, figliolo di Zikri, figliolo di Asaf. Aobadia, figliolo di Shemaia, figliolo di Galar, figliolo di Jiu Duthum, Berachia, figliolo di Hasa, figliolo di Elcana, che abitava nei villaggi di Netofatiti. Dei portinai Shalom, Akub, Talmon, Ahiman e i loro fratelli. Shalom era il capo, e tale è rimasto fino al di Dogi, alla porta del re che è ad Oriente. Essi sono quelli che furono i portieri del campo dei figlioli di Levi. Shalom, figliolo di Core, figliolo di Ebi Asaf, figliolo di Cora, e i suoi fratelli. I corahiti della casa di suo padre erano proposti all'opera del servizio, costudendo le porte del tabernacolo, e i loro padri erano stati preposti al campo dell'Eterno per costudire l'entrata. Finea, figliolo di Lea Zaro, era stato anticamente il loro capo, e l'Eterno era con lui. Zaccaria, figliolo di Mescela Mia, era portiere all'ingresso della tenda di convegno. Tutti questi che furono scelti per essere custodi delle porte erano in numero di duecentodici ed erano iscritti nelle geneologie secondo i loro villaggi. Davide e Samuele il Veggente li avevano stabiliti nel loro ufficio. Essi e i loro figlioli erano proposti alla custodia delle porte della casa dell'Eterno, cioè della casa del tabernacolo. Verano dei portinai ai quattro lati, a oriente, a occidente, a settentrione e a mezzogiorno. I loro fratelli, che dimoravano nei loro villaggi, dovevano di quando in quando venire a stare degli altri per sette giorni, poiché i quattro capi portinai leviti, erano sempre in funzione e avevano anche la sorveglianza delle camere e dei tesori della casa di Dio e passavano la notte intorno alla casa di Dio perché avevano l'incarico di costudirla e a loro aspettava ad aprirla tutte le mattine. Alcuni d'essi dovevano prendere cura degli arredi del culto che si contavano quando si portavano nel tempio e quando si riportavano fuori. Altri avevano l'incarico di costudire gli utensili, tutti i vasi sacri, il fior di farina, il vino, l'olio, l'incenso e gli aromi. Quelli che preparavano i profumi aromatici erano i figlioli di sacerdoti. Matithia, uno dei leviti primogenito di Shalom, il Korahita, aveva l'ufficio di badare alle cose che si dovevano cuocere sulla gratella e alcuni dei loro fratelli, fra i Kehatiti, erano incaricati di preparare per ogni giorno i panni della presentazione. Tali sono i cantori, capi delle famiglie levitiche che dimoravano nelle camere del tempio ed erano esenti da ogni altro servizio perché l'ufficio loro li teneva occupati giorno e notte. Tali sono i capi delle famiglie levitiche, capi secondo le loro generazioni. Essi stavano a Gerusalemme. Genealogia di Saul e di Jonathan A Gabaon abitavano Jeiel, padre di Gabaon, la cui moglie si chiamava Maacca. Abdon, suo figliolo primogenito, Zurkis, Baal, Ner, Nadab, Gedol, Ahio, Zaccaria, Miklot, Miklot generò Shimeam. Anch'essi dimoravano di rimpetto ai loro fratelli a Gerusalemme coi loro fratelli. Ner generò Kis, Kis generò Saul, Saul generò Jonathan, Malkishua, Abinedab e Eshbaal. Il figliolo di Jonathan fu Mary Baal e Mary Baal generò Mika. Il figliolo di Mika Pitom, Melek, Tearea ed Ahaz. Ahaz generò Jarad, Jarad generò Alamet, Azmavet e Zimri. Zimri generò Mozza. Mozza generò Binea che ebbe per figliolo Refaia, che ebbe per figliolo Elehasa, che ebbe per figliolo Atzel. Atzel ebbe sei figlioli, dei quali questi sono i nomi. Asirakam, Bokru, Ishmaele, Sheharia, Obadia, Anam. Questi sono i figlioli di Atzel. Primo libro delle cronache, capitolo decimo. Or i filistei vennero a battaglia con Israele e gli israeliti fuggirono dinanzi ai filistei e caddero morti in gran numero sul monte Gilboa. I filistei inseguirono accanitamente Saul e i suoi figlioli e uccisero Jonathan, Abinadab, Melchishua, figlioli di Saul. Il forte della battaglia si volse contro Saul e gli arcieri lo raggiunsero, ed egli si trovò in grande angoscia a motivo degli arcieri. E Saul disse al suo scudiere, sfodera la spada e trafiggimi affinché questi incirconcisi non vengano a trafiggermi e a farmi oltraggio. Ma lo scudiere non volle farlo perché era colto da gran paura. Allora Saul prese la propria spada e vi si gettò sopra. Lo scudiere di Saul, vedendolo morire, si gettò anch'egli sulla propria spada e morì. Così morirono Saul e i suoi tre figlioli e tutta la sua casa perì nel medesimo tempo. E tutti gli israeliti che abitavano nella valle quando videro che la gente di Israele s'era data la fuga e che Saul e i suoi figlioli erano morti, abbandonarono le loro città e fuggirono, e i filistei andarono ad abitarle. L'indomani i filistei vennero a spogliare gli uccisi e trovarono Saul e i suoi figlioli caduti sul monte Gilboa. Spogliarono Saul e portarono via la sua testa e le sue armi e mandarono all'intorno per il paese dei filistei ad annunziare la buona notizia ai loro idoli e al loro popolo, e collocarono le armi di lui nella casa del loro Dio e inchiodarono il suo teschio nel tempio di Dagom. Tutta la gente di Jabez, di Galaad, udì tutto quello che i filistei avevano fatto di Saul, e tutti gli uomini valorosi si levarono, presero il cadavere di Saul e i cadavere dei suoi figlioli e li portarono a Jabez, seppellirono le loro ossa sotto nella temerice di Jabez, e digionarono per sette giorni. Così morì Saul a motivo dell'infedeltà che gli aveva commessa contro l'Eterno, col non aver osservato la parola dell'Eterno, ed anche perché aveva interrogato e consultato quelli che evocano gli spiriti, mentre non aveva consultato l'Eterno, e l'Eterno lo fece morire e trasferì il regno a Davide, figliuolo di Sai. Primo libro delle cronache, capitolo undicesimo. Allora tutto Israele si radunò presso Davide a Ebron, e gli disse, Ecco noi siamo tue ossa e tua carne. Anche in passato, quando era re Saul, eri tu quel che guidavi e riconducevi Israele, e l'Eterno il tuo Dio ti ha detto, Tu pascerai il mio popolo di Israele, tu sarai il principe del mio popolo di Israele. Tutti gli anziani del popolo vennero dunque dal re a Ebron, e Davide fece alleanza con loro a Ebron in presenza dell'Eterno, ed essi unsero Davide come re di Israele secondo la parola che l'Eterno aveva pronunziato per mezzo di Samuele. Davide con tutto Israele si mosse contro Gerusalemme che è Jebus, qui vi erano i Jebusei abitanti del paese, e gli abitanti di Jebus dissero a Davide, Tu non entrerai qui. Ma Davide prese la fortezza di Sion che è la città di Davide. Or Davide aveva detto, Chiunque batterà per il primo i Jebusai, sarà capo e principe. E Gioab, figliolo di Zeruia, salì il primo e fu fatto capo. E Davide abitò nella fortezza, e per questo essa fu chiamata la città di Davide. Ed egli cinse la città di costruzioni cominciando da Millo e tutto all'intorno, e Gioab riparò il resto della città. E Davide andava diventando sempre più grande, e l'Eterno degli eserciti era con lui. Questi sono i capi dei valorosi guerrieri che furono al servizio di Davide e che l'aiutarono con tutto Israele ad assicurare il suo dominio per stabilirlo re, secondo la parola dell'Eterno riguardo all'Israele. Questa è la lista dei valorosi guerrieri che furono al servizio di Davide. Giascio Biam, figliolo di Achimonita, capo dei principali ufficiali, egli impugnò la lancia contro trecento uomini che uccise in un solo scontro. Dopo di lui veniva Eleazar, figliolo di Dodolo, Haohita, uno dei tre valorosi guerrieri. Egli era con Davide a Pas-dam-in dove i filistei si erano radunati per combattere. Veracuivi un campo pieno d'orso, e il popolo fuggiva dinanzi ai filistei, ma quelli si piantarono in mezzo al campo, lo difessero e sconfissero i filistei, e l'Eterno diede una grande vittoria. Tre dei trenta capi scessero sulla roccia presso Davide nella spelonca di Adulam, mentre l'esercito dei falistei era accampato nella valle di Refaim. Davide era allora nella fortezza, e c'era un posto di filistei a Bethlehem. Davide ebbe un desiderio e disse, «Oh, se qualcuno mi desse da bere dell'acqua del pozzo che è vicino alla porta di Bethlehem!» E quei tre si aprirono un varco attraverso il campo dei filistei, attingero dell'acqua dal pozzo di Bethlehem vicino alla porta, e prese la secola e presentarono a Davide, il quale però non la volle bere, ma la sparse davanti all'Eterno dicendo, «Mi guardi Dio di far qualcosa! Beverei io il sangue di questi uomini che sono andati là a rischio della loro vita, perché l'han portata a rischio della loro vita, e non la volle bere!» Questo fecero quei tre prodi. Abishai, fratello di Joab, fu il capo di altri tre. Egli impugnò la lancia contro trecento uomini e l'uccise, e fu famoso fra i tre. Fu il più illustre dei tre della seconda serie, e fu fatto loro capo. Non di meno non giunse ad uguagliare i primi tre. Poi veniva Benaia, figliuolo di Gioiada, figliuolo di un uomo di Capseal, valoroso e celebre per le sue prodezze. Egli uccise i due grandi eroi di Moab. Discese anche in mezzo a una cisterna dove uccise un leone, un giorno di neve. Uccise pure un egiziano di statura enorme, alto, cinque cubiti, che teneva in mano una lancia grossa come un subbio da tessitore. Ma Benaia gli scese contro con un bastone, strappò di mano all'egiziano la lancia, e se ne servì per ucciderlo. Questo fece Benaia, figliuolo di Gioiada, e fu famoso fra i tre prodi. Fu il più illustre dei trenta. Non di meno non giunse ad eguagliare i primi tre. E Davide lo ammise nel suo consiglio. Poi verrano questi uomini forti e valorosi. Asael, fratello di Joab, Elanam, figliuolo di Dodo da Bethlehem, Shamot da Oror, Eletz da Palom, Ira, figliuolo di Ikkesh da Tekoa, Abieser da Anatot, Sibakei da Usha, Ilai da Ahhoa, Maharai da Netofa, Elel figliuolo di Baanna da Netofa, Itai figliuolo di Ribai da Ghibea, dei figlioli di Beniamino, Benaia da Pirathot, Urai da Nael Gash, Abiel da Arbat, Azmavet da Beharum, Eli, Abba da Sha'albom, Bene, Hashem da Gizom, Gionatan, figliuolo di Shageh da Arar, Haimin, figliuolo di Shekar da Arar, Elifal, figliuolo di Ur, Efer di Mechera, Ahisha da Pilom, Etstro da Carmel, Nahrai, figliuolo di Etzbai, Johel, fratello di Natam, figliuolo di Hagri, Selec la Monita, Nahrai da Berot, Scudiero di Joab, Figliuolo di Zeruiah, Ira da Getter, Gareb da Getter, Urialo Iteo, Zabat, figliuolo di Alai, Adina, figliuolo di Scisa, il Rubenita, capo dei Rubeniti, ed altri trenta con lui, Anam, figliuolo di Maacca, Giosafà da Mitni, Uzzia da Asherot, Shalamai e Jeiel, figliuolo di Otam, da Areor, Jediel, figliuolo di Shimri, Joa, suo fratello, Il Tizita, Eliel da Mahavin, Jeribai e Jovahliah, figliuoli di Elmahen, Jitma, il Maobita, Eliel, Obel, Jahasiel, in Mezobaita. Primo Libro delle Cronache, Capitolo dodicesimo Or questi sono quelli che vennero a Davide a Ziklag, mentre egli era ancora fuggiasco per tema di Saul, figliuolo di Chis. Essi facevano parte dei prodi che gli prestarono aiuto durante la guerra. Erano armati d'arco, abili a scagliarsarsi e a tirar frecce tanto con la destra quanto con la sinistra. Erano della tribù di Beniamino dei fratelli di Saul, Il Capo, Ahiezer e Joas, figlioli di Shemah, da Gibea. Jeziel e Peled, figlioli di Atzmavet, Beraca, Jehu da Anatol, Iashmaia, da Gabaon, valoroso fra i trenta e Capo di trenta, Jeremia, Ihatziel, Jeonam, Josabad da Gedara, Eluzzai, Gerimot, Bealia, Shemaria, Shepatia da Erruf, Elcana, Yashia, Azaril, Joeser e Geshobem, Coraiti. Joela e Zebadia, figlioli di Gioraham, da Gedor. Fra i gaditi degli uomini partirono per recarsi da Davide nella fortezza del deserto. Erano uomini forti e valorosi, esercitati alla guerra, che sapevano maneggiare scudo e lancia dalle facce leoninie e veloci come gazzelli sui monti. Ezer era il capo, Obadia il secondo, Eliab il terzo, Mishmanna il quarto, Jeremia il quinto, Atta il sesto, Eliel il settimo, Johanan l'ottavo, Elzabad il nono, Jeremia il decimo, Macbanai l'undicesimo. Questi erano dei figlioli di Gad, capi dell'esercito. Il minimo teneva fronte a cento, il maggiore a mille. Questi sono quelli che passarono il Giordano il primo mese quando era straripato dappertutto, e misero in fuga tutti gli abitanti delle valli a oriente e ad occidente. Anche dei figlioli di Beniamino e di Giuda vennero a Davide nella fortezza. Davide uscì loro incontro e si rivolse a loro dicendo, Se venite da me con buon fine per soccorrermi, il mio cuore sarà unito col vostro. Ma se venite per tradirmi e darmi nelle mani dei miei avversari, mentre io non commetto alcuna violenza, l'iddio dei nostri padri lo vega e faccia egli giustizia. Allora lo spirito investì a Massai, capo dei trenta, che esclamò, Noi siamo tuoi, o Davide, e siamo con te, o figliolo di Sai. Pace, pace a te e pace a quei che ti soccorrano, poiché il tuo Dio ti soccorre. Allora Davide li accolse e li fece capi delle sue schiere. Anche degli uomini di menasse passarono a Davide quando questi andò con i filistei a combattere contro Saul, ma Davide e i suoi uomini non furono d'alcun aiuto ai filistei, giacché i principi dei filistei, dopo essere stati consultati, rimandarono Davide dicendo, Egli passerebbe dalla parte del suo signore Saul a prezzo delle nostre teste. Quando egli tornò a Ziklag, questi furono quelli di menasse che passarono a lui. Questi uomini detero aiuto a Davide contro le bande dei predoni, perché erano tutti uomini forti e valorosi e furono fatti capi nell'esercito. E ogni giorno veniva gente a Davide per soccorrerlo, tanta che se ne formò un esercito grande come un esercito di Dio. Guerrieri delle dodici tribù che si recarano a Ebron per proclamare re Davide Questo è il numero degli uomini armati per la guerra che si presentarono a Davide a Ebron per trasferire a lui la podestà reale di Saul secondo l'ordine dell'Eterno. Figlioli di Giuda che portavano scudo e lancia 6.800 armati per la guerra. Dei figlioli di Simeone, uomini forti e valorosi in guerra, 7.100. Dei figlioli di Leve, 4.600. E Gioiada, principe della famiglia d'Aronne, e con lui 3.700 uomini, e Tzadok, giovine, forte e valoroso, e la sua casa patriarcale, che contava 22 capi. Dei figlioli di Beniamino, fratelli di Saul, 3.000, poiché la maggior parte d'essi, fino allora, era rimasta fedele alla casa di Saul. Dei figlioli di Efraim, 20.800. Uomini forti e valorosi, gente di gran nome, divisi secondo le loro casse patriarcali. Della mezza tribù di Benasse, 18.000 che furono designati nominatamente per andare a proclamare re Davide. Dei figlioli di Issacar, che intendevano i tempi in modo da sapere quel che Israele doveva fare, 200 capi, e tutti i loro fratelli, secondo i loro ordini. Di Zabulon, 50.000 atti a servire, forniti per il combattimento di tutte le armi da guerra, e pronti ad impegnare l'azione con un cuore risoluto. Di Neftali, 1.000 capi, e con essi 37.000 uomini armati di scudo e di lancia. Dei Daniti armati per la guerra, 28.600. Di Asher, atti a servire, pronti all'ordine di battaglia, 40.000. E di là dal Giordano, dei Rubeniti, dei Gaditi, e della mezza tribù di Menasse, forniti per il combattimento di tutte le armi da guerra, 120.000. Tutti questi uomini, gente di guerra, pronti a ordinarsi in battaglia, giunsero a Ebron con sincerità di cuore, per proclamare Davide re soprattutto Israele, e anche tutto il rimanente di Israele era un amine per fare re Davide. Essi rimasero quivi tre giorni con Davide a mangiare e a bere, poiché i loro fratelli avevano preparato per essi dei viveri, e anche quelli che erano loro vicini, e perfino gente da Isaccar, da Sapulone e da Neftali, portavano dei viveri sopra asini, sopra cammelli, sopra muli e su buoi, farina, fichi secchi, uva secca, vino, olio, buoi e pecore in abbondanza, perché vera gioia in Israele. Primo libro delle Cronache, capitolo tredicesimo. Davide tenne consiglio con i capi di migliaia e di centinaia, cioè con tutti i principi del popolo, e poi disse a tutta la radunanza di Israele, «Se vi par bene, e se l'Eterno il nostro Dio l'approva, mandiamo dappertutto a dire ai nostri fratelli che sono rimasti in tutte le regioni di Israele, e così pure ai sacerdoti e alleviti nelle loro città e nei loro contadi, che si uniscano a noi, e riconduciamo qui da noi l'arca del nostro Dio, poiché non ce ne siamo occupati ai tempi di Saur. E tutta la radunanza rispose che si facesse così, giacché la cosa parve buona agli occhi di tutto il popolo. Davide dunque radunò tutto Israele dallo Shihor d'Egitto fino all'ingresso di Amat per ricondurre l'arca di Dio da Kiri e Jearim. E Davide con tutto Israele salì verso Bahalla, cioè verso Kiri e Jearim, che appartiene a Giuda, per trasferire di là l'arca di Dio dinanzi alla quale è invocato il nome dell'Eterno che siede sovressa fra i cherubini. E posero l'arca di Dio sopra un carro nuovo, levandola dalla casa di Abinadab, Eusa e Ahio conducevano il carro. Davide e tutto Israele danzavano dinanzi a Dio a tutto potere cantando e suonando cetre, saltri, timpano, cembari e trombe. Ora, come furono giunti all'aia di Kidon, Uzza stesse la mano per reggere l'arca perché i buoi la facevano piegare. E l'ira dell'Eterno s'accesse contro Uzza, e l'Eterno lo colpì per avere stesa la mano sull'arca, e qui vi Uzza morì dinanzi a Dio. Davide si attristò perché l'Eterno aveva fatto una breccia nel popolo colpendo Uzza in quel luogo, e così quel luogo è stato chiamato Peretz Uzza fino al di Doji. Davide in quel giorno ebbe paura di Dio e disse, come farò a portare a casa mia l'arca di Dio? E Davide non ritirò l'arca presso di sé nella città di Davide, ma la fece portare in casa di Obed-Edom di Gath, e l'arca di Dio rimase tre mesi dalla famiglia di Obed-Edom in casa di lui, e l'Eterno benedisse la casa di Obed-Edom e tutto quello che gli apparteneva. Primo libro delle cronache, capitolo quattordicesimo. Iriam, re di Tiro, inviò a Davide dei messi, delle gname di cedro, dei muratori, delle gnaiuoli, per edificargli una casa. Allora Davide riconobbe che l'Eterno lo stabiliva saldamente come re di Israele, giacché la sua dignità reale era grandemente esaltata per amore di Israele del popolo di Dio. Davide si prese ancora delle moglie a Gerusalemme e generò ancora figlioli e figliole. Questi sono i nomi dei figlioli che gli nacquero a Gerusalemme, Shammua, Shobab, Natan, Salomone, Jabar, Elishua, El-Pelet, Noga, Nefeg, Yafia, Elishama, Beliada ed Elifelet. Or, quando i filistei ebbero udito che Davide era stato unto re di Israele, saliron tutti in cerca di lui, e Davide saputolo uscì loro incontro. I filistei giunsero e si sparsero per la valle di Refain. Allora Davide consultò Dio dicendo, Salirò io contro i filistei e me li darai tu nelle mani. L'Eterno gli rispose, Sali e io li darò nelle tue mani. I filistei dunque salirono a Bal-Perazin dove Davide li sconfisse e disse, I Dio ha rotto i miei nemici per mano mia come quando le acque rompono le dighe, perciò fu dato a quel luogo il nome di Bal-Perazin. I filistei lasciaron qui i loro dei che per ordine di Davide furono dati alle fiamme. Di poi i filistei tornarono a spargersi per quella valle e Davide consultò di nuovo Dio e Dio gli disse, Non salire dietro ad essi, allontanati e gira intorno a loro e giungerai su di essi dal lato dei gelzi e quando udrai un rumore di passi tra le vette dei gelzi esci subito all'attacco perché Dio marcerà la testa tua per sconfiggere l'esercito dei filistei. Davide fece come Dio gli aveva comandato e gli sdraeliti sconfissero l'esercito dei filistei a Gabaon e a Geser e la fama di Davide si sparse per tutti i paesi e l'Eterno fecesi che egli incutesse spavento a tutte le genti. Primo libro delle cronache capitolo quindicesimo Davide si costruì delle case nella città di Davide preparò un luogo per l'arca di Dio e drizzò una tenda per essa allora Davide disse nessuno deve portare l'arca di Dio tranne i leviti perché l'Eterno ha scelti loro per portare l'arca di Dio e per essere suoi ministri in perpetuo e Davide convocò tutto Israele a Gerusalemme per trasportare l'arca dell'Eterno al luogo che egli le aveva preparato Davide radinò pure i figlioli d'Aronne e i Leviti dei figlioli di Kehat Uriel il capo e i suoi fratelli 120 dei figlioli di Merari Asaia il capo e i suoi fratelli 220 dei figlioli di Gersom Joel il capo e i suoi fratelli 130 dei figlioli di Elisafan Shemaia il capo e i suoi fratelli 200 dei figlioli di Ebron Eliel il capo e i suoi fratelli, ottanta, dei figlioli di Uzzier, Amminadab il capo e i suoi fratelli, centododici. Poi Davide chiamò i sacerdoti Zadò e Abiatar e i Leviti, Urier, Asaia, Joer, Shemaia, Elier e Amminadab, e dice loro, voi siete i capi delle casse patriarcali dei Leviti, santificatevi, voi e i vostri fratelli, affinché possiate trasportare l'arca dell'Eterno dell'Idio di Israele nel luogo che io le ho preparato. Siccome voi non c'eravate la prima volta, l'Eterno, il nostro Dio, fece una breccia fra noi, poiché noi lo cercammo secondo le regole stabilite. I sacerdoti e i Leviti dunque si santificarono per trasportare l'arca dell'Eterno dell'Idio di Israele e i figlioli dei Leviti portarono l'arca di Dio sulle loro spalle per mezzo di stanghe come Mosè aveva ordinato secondo la parola dell'Eterno. E Davide ordinò ai capi dei Leviti che chiamassero i loro fratelli cantori a prestare servizio con i loro strumenti musicali, salteri, cetri, cimbali, da ogni trarrebbero suoni vigorosi in segno di gioia. I Leviti dunque chiamarono a prestare servizio Eman figliolo di Joel e fra i suoi fratelli Asah figliolo di Berechia, tra i figlioli di Merari loro fratelli Etan figliolo di Cushaia, con loro furono chiamati i loro fratelli del secondo ordine, Zaccaria, Ben, Yasiel, Shemiramot, Jeiel, Unni, Elihab, Benaia, Maaseia, Mattiaia, Elifelehu, Milkneia, Obed, Edom e Jeieliel i Portinai. I cantori Eman, Asaf, Etan avevano dei cimbali di Ram per suonare. Zaccaria, Asiel, Shemiramot, Jeiel, Unni, Elié, Maaseia, Benaia avevano dei salteri per accompagnare voci di fanciulle. Mattia, Elifehu, Milkneia, Obed, Edom, Jeiel e Atazia suonavano con cetre all'ottava per guidare il canto. Kenania, capo dei Leviti, era preposto al canto e dirigeva la musica perché era competente in questo. Berechia e Delcana erano portinai dell'arca. Shebania, Josafat, Etneher, Emanzei, Zaccaria, Benaia e Eliezer, sacerdote, suonavano la tromba davanti all'arca di Dio. E Obed, Edom e Jeiel erano i portinai dell'arca. Davide, gli anziani di Israele, i capi di Migliaia, si misero in cammino per trasportare l'arca del patto dell'Eterno dalla casa di Obed, Edom, con Gaudio. E poiché Dio prestò l'assistenza ai Leviti che portavano l'arca del patto dell'Eterno, fu offerto un sacrificio di sette giovenchi e di sette montoni. Davide indossava un manto di lino fino, come anche tutti i Leviti che portavano l'arca, i cantori e Kenania, capo della musica fra i cantori. E Davide aveva sul manto un efodilino, così tutto Israele portò sull'arca del patto dell'Eterno con grida di gioia e suoni di corni, di trombe, di cembre, di salteri, di arpe. E come l'arca del patto dell'Eterno giunse alla città di Davide, Michal, figliola di Sao, guardava dalla finestra, e vedendo il re che danzava e saltava, lo disprezzò in cuor suo.